Conoscete la leggenda dell'invenzione degli scacchi? Un sovrano persiano fu così felice per l'invenzione degli scacchi che decise di premiare il suo inventore. Egli avrebbe potuto chiedere qualsiasi cosa, oro, gioielli, ma la sua richiesta meravigliò il sovrano e gli chiese semplicemente che fosse posto un chicco di grano sulla prima casella, due sulla seconda, quattro sulla terza e così via raddoppiando di volta in volta. Il regnante fu sollevato da questa richiesta e ordinò che fosse subito esaudita. Iniziò a disporre pian piano i chicchi, uno sulla prima casella, due sulla seconda, quattro sulla terza e così via, ma presto si rese conto che questi crescevano in maniera esponenziale. Giunti all'ultima casella infatti si sarebbe raggiunta una quantità di grano pari alla produzione mondiale annua moltiplicata per 1700 anni. Chi dice che la matematica non serve?